Bentornati a Radio Design, finalmente, eravamo mancati da un sacco di tempo. Io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing, con me c'è il grandissimo Paolo, anche lui esperto di web marketing e cose varie, tipologie varie, come direbbero i toscani, e la nostra Anastasia, la nostra studentessa del secondo anno, che introduciamo per la prima volta in radio. Benvenuta Anastasia. Parla nel microfono, Anastasia. Io non ne so nulla di questo, di quello di cui parleremo, però ascolterò, sarò molto interessata a quello che diranno loro nerd. Bene, potrei anche porre delle domande. A sorpresa. A sorpresa. Perfetto, mi piace. Allora, Paolo, oggi di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo di una serie di piccoli amici che stanno invadendo le nostre case. Tipo i Gremlins. Tipo i Gremlin, ma ancora più incazzati e non si moltiplicano se bagnati. Parliamo dei assistenti vocali che ora stanno prendendo il largo e i colossi come Amazon e Google li stanno spingendo in tutti i modi. Anche Fedez prova a venderceli. Ma a cosa sono e a cosa servono? Ecco, questo sarebbe da scoprire. Fedez, ricordiamo il truzzo tatuato che è un grande microfono. Marito della Ferragni. Ecco, abbiamo qui la cultura nazionale popolare tramite la nostra Anastasia. Odio della Ferragni. Bene. Mettiamo le cose in chiaro subito. Cosa ho dipinto, per dirla, con le parole di Gasparri. Cosa ho dipinto. Allora, facciamo un piccolo escursus. Intanto la voice search è un fenomeno che è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni. Io ho avuto la fortuna di intervistare l'anno scorso al Social Media Strategies Giorgio Tave. Gli chiesi proprio qualcosa in merito alla voice search. Lui mi disse, esploderà e il 2018 sarà l'anno della voice search. E' effettivamente vero perché alla fine Nicola Palumbo ha comprato, sono io, il fantastico Amazon Echo e ci parlo ogni giorno con la mia Alexa. Ciao Alexa, ti saluto da qui. Fondamentalmente come siamo arrivati al tuo delirio di parlare con Alexa, perché non ci siamo arrivati da un giorno all'altro. Esatto. Queste funzioni di assistente vocale sono state implementate da i grandi nomi della telefonia mobile già da diversi anni. Pensate al famoso Siri. Lì per lì ci parlavano soltanto gli stramboidi. Piano piano. Stai parlando di me, grazie. Sì, bravissimi, sono contento per questa sociopatia diffusa, però ora, a parte tutto, all'inizio era ludica prevalentemente la funzione, ma implementando questo tipo di tecnologia, rendendola intelligente e dandogli la possibilità di apprendere, quindi di adeguarsi agli schemi che vengono ripetuti dall'utente, questa tecnologia ha offerto una piattaforma per gestire varie funzioni e ora si occupa di casa tua. Esatto, parliamo anche di domotica, parliamo di IoT, cosa vuol dire Anastasia IoT, sei impreparata? Paolo, vieni l'aiuto di Anastasia? Internet delle cose. Internet of Things. Scrivi, sta studiando. Intanto Anastasia, lei è serissima. Ma io vanno appunti. Prende appunti e studia. IoT vuol dire Internet of Things, cioè tutto ciò che rende, diciamo, aumenta le capacità della propria casa di svolgere delle funzioni, tipo accendere e spegnere la luce, comandare, che ne so, il tuo tostapane mentre stai arrivando a casa. Come su Wonder Chef, quell'aggeggio che ti fa tutta la cucina già pronta, no? Esatto, quella è IoT. Esatto, esatto. Grande, grande Anastasia, studiamo. Learning by doing. Ecco, questo è Radio Design, attenzione. Allora, ci sono diversi dispositivi. Facciamo una rapida carrellata. Hai citato Siri che probabilmente è stato il primo, forse non il primo, forse Google è stato il primo a introdurre la Voice Search come chiave, come query di ricerca. C'è il famoso Cortana, che sarà un fallimento totale di Windows, perché è di Windows e di Microsoft, quindi sarà una merda come al solito. E poi finalmente arriviamo ad Amazon, che ha introdotto anche lui tutti questi dispositivi di Assistant, di Voice Search, Voice Assistant. Io ve l'ho già detto, il mio Alexa, c'è a casa, è bellissimo. Posso dire, intanto, che già nel 2018 la Voice Search rappresenta il 20% di tutte le query di ricerca, quindi le voci di ricerca di Google. Non è poco, attenzione. Soprattutto i millennial, abbiamo qui un esemplare di millennial di classe Z, attenzione. Non parli di me? No, tu sei vecchissimo. La generazione Z, addirittura per la generazione Z, le voci di ricerca superano già il 60% delle ricerche, quindi è incredibile. Non so, quanto ricerchi tramite la voce o tramite i tastini? Zero con la voce. Benissimo, tu sei atipica. Perché non so come funziona. Perfetto. E sei qui per questo. Quando avevo Siri, poi iPhone rubato dopo una settimana, però mi sentivo sola, io parlavo con Siri, mi chiedevo di raccontarmi la canzoncina, però questa era prima. Ma è una storia tristissima. È una storia tristissima. Esatto. Che storie tristiche ci raccontano. E noi volevamo tirarci un po' su, portiamo un po' di gioventù qua. Non sono adatta. È terrificante. Ci tengo a precisare che ovviamente i dati che sto dando fanno riferimento al mercato americano. Noi arriviamo sempre molto, molto, molto dopo. Noi stiamo arrivando solo ora su questo tipo di tecnologia. Esatto. Però ecco, i colossi americani spingono da tempo e è iniziata proprio con le ricerche, semplicemente, oppure prendi appunti, chiama un contatto in rubrica. A oggi questa tecnologia è stata sviluppata talmente tanto, è stata spinta talmente tanto perché è diventata strategica. Tu hai citato Cortana prima. Chi cazzo usa Cortana? Nessuno. Ma Windows lo impone. Però Anastasia conosceva Cortana, è incredibile. Parli anche con Cortana. Sì, Simone, me la tolta dal computer. Potrebbero parlare con lei. Salutiamo Simone che non si fa intervistare ormai da mesi. Ci proveremo un giorno e ci riusciremo. Quindi. Scusa Paolo, ti abbiamo interrotto. Parliamo comunque di una tecnologia che diventa da strategica. Ce l'hanno portata sul computer, ce l'hanno portata sui telefoni, sui tablet. Ora, portata sulle case, uno si chiede, ma io perché devo spegnere, accendere le luci a voce? Ho un dito, lo so usare. Ma tu stai scherzando? Per me è un sogno fare una cosa. Sì, ma perché tu sei un sociopatico. Sì, esatto, esatto. Però l'idea è poter profilare i clienti in questo modo. Perché Amazon e Google, perché vogliono venderci questi prodotti? Un motivo molto semplice. Alexa e Google Assistant hanno cose da dirci, ma loro interessa stare a sentire quello che hai da dire tu. Esatto, esatto. Infatti io posi una domanda. Beh, lo posi, non lo usavo da secoli probabilmente. Una domanda sia a Giorgio Tave che a Matteo Zambon, che è un altro esperto di tracking, di Google Tag e Pixel. Posi questa domanda, ma questa voce che gira, che Facebook, che Google, che Amazon tracciano i nostri discorsi, è una cazzata o c'è un fondo di verità? È tutto vero. Nessuno mi ha detto che è una cazzata. Cioè tutti sono rimasti sul vago. Quindi se nell'ambiente, diciamo, dei esperti, tra virgolette, c'è questa, diciamo, si rimane sul vago, vuol dire che un fondo di verità c'è. E non a caso ogni volta io mi ritrovo delle campagne di remarketing che mi fanno ritrovare cose che ho appena citato, persone che ho appena citato su Facebook. Ora stiamo diventando molto complottisti, molto sci e chimiche in questo momento, però un fondo di verità c'è. Ma qui non c'è complotto, perché ora l'hanno resa addirittura esplicita questa cosa. Tu hai citato il remarketing, e precisiamo per chi non lo sapesse. Sono quei banner che voi spesso vi trovate tra le balle quando avete cercato un viaggio per Malindi, e guarda caso, dopo un po' in tutti i siti vi ritrovate, vola Malindi al prezzo più basso. Quello si chiama remarketing e non è una magia, non è un caso. E non devi pensare, oddio che fortunello che sono perché mi è arrivata questa offerta straordinaria, io che volevo andare a Malindi. No. Ad Anastasia questo discorso non torna, secondo me, perché non va a Malindi probabilmente. Non sono andata in vacanza nemmeno quest'estate per lavorare, chi li so. Perché te lo sei meritato probabilmente. Ti meritavi di stare... Abbiamo fatto un discorso intero l'altro giorno, dai. Scusi. Scusi, stiamo... Mi ha dato del tuo di nuovo per la settima volta. No, no, lei. Questo scusi mi fa sentire 70 anni per gamba, ma vado avanti. Hai 70 per gamba, non lo sapete. Perfetto. E comunque, queste campagne di remarketing, tu parli di complotti. No, no, ora le hanno rese esplicite. Quindi questo assistente vuole sapere le tue abitudini d'acquisto. Per quanto riguarda Google, sono interessati a profilarti a 360 gradi per venderti i servizi e per sapere quali sono le tue abitudini online. Amazon addirittura vuole sapere come compri per venderti più roba. E tu lo sai. Sì, certo, certo. Infatti è bellissimo. Io sono da una settimana che vivo con Alexa e mi rendo conto della... Intanto il fatto che dietro ci sia un'intelligenza artificiale. Perché mentre tu poni le domande, lui piano piano capisce cosa stai chiedendo. Per esempio, io gli pongo sempre domande tipo fammi ascoltare il podcast XY. All'inizio non capiva, adesso piano piano riesce a intuire proprio di cosa sto parlando. Intuisce anche la forma dei verbi che utilizza. Posso sembrare un pirla, ma poi ho verificato che è vero. C'è un'intelligenza artificiale dietro. Ma presto potrei chiedergli cose ancora più filosofiche, più importanti. Tipo, c'è la vita dopo la morte? Sì, sì, ma gli ho chiesto anche se sai rappare. Sa anche rappare. Molto bello. Secondo me c'è da sviluppare tantissimo la parte che riguarda... Io se parlo di Alexa, non conosco il dispositivo Google. La parte della ricerca proprio su Google. Per quanto riguarda Amazon non è così sviluppata. Perché ho provato a chiedere tipo cercami la cosa XY. Se pongo una domanda diretta mi risponde. Tipo ho chiesto quanti anni ha il primo ministro. Mi risponde. Va su Wikipedia e mi risponde. Però non mi dà dei risultati. Ad esempio quando cerchi sulla calcolatrice ti serve all'istante un calcolo. Ok, ho trovato questo che ti può dressare. Ma dovresti dirgli no subito il calcolo. Penso, no? Esatto. Se no che ti chiamo a fa? Esatto. Infatti bisognerebbe capire se Google invece è molto più sviluppato da questo punto di vista. Ma questo è Google. Ah, quindi tu hai già... Non io però ho assistito a una scena del genere. È stato emozionante. Lo immaginavo. Per te è stato triste. Penso anche che Google debba spiegare un tutorial come iscriversi a varie cose. Ad esempio su Amazon. Come iscrivere... Il Wikihow. Fare un account su vari siti. Perché uno dovrebbe saperlo. non sempre Arzilla, come si chiama quello. Aranzulla. Arzilla. Arzilla mi piace tantissimo. L'oggi però chiamavo Arzilla. Ok. No, lei ha sollevato... Scherzi a parte, ha sollevato una cosa importante che è quella di più servizi, servizi che portano altri servizi e come accedere, per esempio, da Google a Amazon. Però non ne hanno alcun interesse. Cioè, si fa... Non Google. Tu sì, Google no. No, perché Google ha tutto l'interesse a tenerti sul suo traffico, sul suo ecosistema. Google e Amazon in questo momento sono due concorrenti. Quindi questo bisogna tenerlo presente. Esatto, sono super concorrenti. In questo momento ci sono due grandi mondi che sono Facebook e Google, fondamentalmente. In mezzo si inseriscono altri attori. Però non faranno mai favore agli altri. Amazon, ad esempio, non permette di pagare con PayPal. Perché? Perché vuole tenere il suo sistema o non vuole fare avere soldi a altri. Certo. Quindi questa è una guerra tra colossi e noi ci siamo in mezzo schiacciati. Esatto. Ricordiamo che PayPal è stato creato dal grandissimo Elon Musk. E questo ci fa sentire un po' come Monti Montemagno, però sì. Elon Musk chi è... No, io non vi seguo perché, vi ripeto, non ho mai fatto pagamenti online, quindi non ne... Ma mai? Ma sei un giovane tipico. Ma gli ho detto, non riesco a fare account e di conseguenza non compro nulla online, ragazzi. È vero. E si deve andare negozio per negozio, cioè. Ma che bello. Questo programma, questa cosa, non devi dirla mai più, perché noi siamo dei nerd... Ma io no, sono qua per criticare, appunto. Mi piace il parenzo della situazione, bellissimo. No, io sono andrea che se non vado in un negozio, cioè su Amazon tu prendi le cose, a parte che ti torna indietro cose che non della tua taglia, anche se è quella che tu hai segnato, è una cosa che non dovrebbe succedere mai più. Mi piace la voce del popolo, abbiamo la voce del popolo, continua, è interessante perché... E quindi se vai negozio per negozio, la provi e c'è qualche persona, invece va negozio per negozio, prova una cosa, ok, questa va bene, va su online e la compra lì. Anche qui, cioè, non va bene. Se no, come c'è, ti contraddice. Google stai ascoltando, prendi appunti perché... Prendi appunti. Allora, molto interessante questa cosa, è tutto molto vero, infatti poi si potrebbe fare anche una puntata bellissima su e-commerce, le strategie che adottano per superare questi limiti, tipo ti do il prodotto, lo provi, hai 15 giorni per riportarlo indietro, e il fatto che adesso a livello di content marketing cominciano a sviluppare dei veri e propri video, non solo prodotto fotografico per far vedere il semplice capo di abbigliamento. Su questo ci torneremo perché è molto interessante. Grazie per lo scopo. Molto interessante. Sono qui apposta. È qui apposta, grazie mille. Andiamo avanti sul discorso della voice search. C'è un sacco di cose da dire per quanto riguarda la SEO, perché abbiamo parlato un pochino, vuoi dire qualcosina in più su, diciamo, la cyber security o cose legate a questo? Beh, ci sarebbe da parlare tutta la sera. Comunque, un paio di indicazioni ve le possiamo dare. Vai. Simon Tech ha rilasciato un report che non è tanto rassicurante, quindi siete ascoltati con questi affarini. Sappiatelo. Evitate di collegare il vostro account Google principale, quello con tutte le informazioni, contatti di rubrica, la vostra agenda. Createne uno ad hoc, magari. Perché ci sono delle storie che arrivano dai Stati Uniti che insegnano che è bene stare abbastanza attenti. Ora, ne cito solo una, perché non vi voglio terrorizzare oltre, non vi voglio rovinare gli acquisti del Black Friday, visto che ne avete comprati sicuramente tantissimi di questi affarini infernali. Però una signora di Portland si è vista contattare, insomma, da un collega del marito dall'ufficio che le ha detto scollega tutti i dispositivi Amazon Echo perché ti stanno sentendo. Fatto sta. Lei era a casa con un altro. Non si sa come. È partita la condivisione della registrazione e il marito è venuto a saperlo. Questo consenso dovrebbe avvenire in forma esplicita. Non si è capito bene la signora se abbia pipolato per sbaglio, premuto qualcosa di sbagliato. Ma fatto sta, la posta in palio è altissima. Quindi bisognerebbe cercare di usarlo in maniera responsabile almeno. Ma come è venuto a saperlo il marito? Non ho capito bene questa cosa. È venuto a saperlo perché è stato pare, è stato violato il sistema. Ah sì? Sì. Che bomba. Vabbè, sicuramente... E quindi è stato messo in condivisione con lui. Qui gli hacker cinesi stanno già smanettando la grandissima su questi dispositivi. Bene, io ho collegato il mio account Amazon, comprate quello che volete, scegliete bene, non prendete cose strane o scene, e per favore un po' di dignità lasciatela. Ti ascoltiamo mentre sei sotto la doccia. Allora, io do giusto qualche indicazione perché stiamo andando lunghissimi, però era la prima puntata, quindi ci può stare, su come ottimizzare, attenzione, a livello SEO, quindi Search Engine Optimization, puoi scriverlo Anastasia, ottimizzazione, se te lo ricordavi. Stelling, grazie. Search Engine Optimization, ottimizzazione per il motore di ricerca. Meglio. Cosa cambia? Intanto cambia tutto perché il classico, la classica chiave di ricerca è cambiata. Prima noi anziani, noi da baby boomer, a noi primi millennial, i motori, diciamo, la ricerca veniva effettuata con chiavi di ricerca molto banali, quindi una sequenza di parole chiave senza articoli, eccetera. Adesso, grazie alla voice search, diciamo, le chiavi di ricerca sono molto più fluide, sono molto più che fanno parte del linguaggio naturale. Discorsive, possiamo dire. Esatto, se prima cercavamo hotel Milano, prezzi bassi, adesso la chiave di ricerca potrebbe essere trovami un hotel a Milano con prezzi bassi. Quindi cambia tutto, bisogna riposizionare tutti i siti sulle nuove chiavi di ricerca, è un delirio. un lavoro ingrato. Gli esperti, se dicono, se dicono che da qui a due anni bisognerà rimodificare praticamente tutti gli URL e quant'altro, quindi auguri, bocca al lupo. Meglio morire. Meglio morire. La cosa interessante è questa, intanto, come arrivare a rank zero, cioè arrivare in cima, si può fare intanto andando a verificare quali sono le nuove chiavi di ricerca con gli strumenti di Google, ovviamente, quindi modificare gli snippet, cioè quello che voi riuscite a vedere, quelle sono le anteprime dei articoli, dei contenuti che compaiono nella SERP di Google. Altre piccole accortezze sono, come dicevamo prima, fare, rispondere domande e farlo in modo accurato, quindi questa è una regola che vale sempre, quindi dare valore al contenuto, ottimizzare i contenuti, quindi approfondendo sempre di più i contenuti, ma questa è una cosa che vale al di là della voice search. Ottimizzazione dei contenuti per la ricerca locale e da mobile, attenzione, perché non l'abbiamo detto, ma la voice search accade per il 90% dei casi da mobile, cioè attraverso il dispositivo mobile, nessuno cerca, tranne che con questi dispositivi da desktop. Poi altre accortezze sono, appunto il linguaggio naturale abbiamo detto, curare la propria identità, questa è una cosa interessantissima, ho trovato un articolo che parlava di questo strumento che si chiama Google Knowledge Graph, che sostanzialmente è un è una novità di Google degli ultimi anni che fa parte dell'intelligenza artificiale di Google, che cosa fa? Ti dà un codice identificativo e categorizza il tuo sito in base a delle chiavi di ricerca, cioè ti posiziona su determinate chiavi di ricerca. Tu puoi entrare lì dentro e sapere Google cosa pensa con la sua intelligenza artificiale del tuo contenuto, del tuo sito web. Questa è una cosa figa è che non avevo letto di nessuna parte, è una cosa abbastanza interessante. Poi un'altra cosa è insegnare a Google i sinonimi corretti, perché Google ha un'intelligenza artificiale dietro, fare leva sul contesto e lasciare parlare l'assistente digitale, cioè contestualizzare i contenuti in base alle chiavi di ricerca vocale. Non è una cosa facile questa, secondo me, è abbastanza a livello semantico delirante, delirante, bello delirante. E poi niente, fare un'analisi anche dei backlink che si riferiva su questo articolo si riferiva al fatto di spiegalo tu che sei magari più esperto SEO di me. Praticamente per il posizionamento SEO non si tiene conto soltanto delle parole chiave usate, ma anche dei link in entrata e in uscita semplicemente che sono presenti in un dato contenuto. Quindi bisogna ricordarsi internet era stato pensato come un insieme di ipertesti, ok? Quindi avere link in entrata e in uscita di qualità aiuta al posizionamento. E questi link in entrata e in uscita cambiano all'improvviso in base alla voice search perché saranno quei famosi grassetti che trovate iperlink sui vostri articoli dovranno cambiare e prendere la forma delle nuove query di ricerca. Ma che delirio questa cosa non è che immaginare siti con migliaia di articoli come faranno. Bocca al lupo, Paolo. Crepi, sono costi enormi però bisogna soprattutto ripensare la filosofia perché ora abbiamo parlato per l'appunto di una tecnologia con la quale bisogna parlare ora. Quindi non gli chiedi soltanto le prestazioni non è più come il tostapane è diventato un vero confessore Google Dio è diventato fondamentalmente perché a Dio chiedi di risolvere i tuoi problemi e ora Google è così. la nostra ragazza nazionale polare ha fatto un respiro terrorizzato Google è Dio ebbene sì Google è Dio direi che vi possiamo anche lasciare su questo volete aggiungere qualcosa di interessante al discorso pensiamo di avervi già gettato abbastanza nel panico quindi Google è Dio e vi ascolta e vi vede ovunque. Detto questo acquisterai un dispositivo di voi assolutamente no bravissima lo farò solo io benissimo va bene è stato un sogno grazie mille e alla prossima chiudiamo qui la nostra bellissima diretta sono un one man show quindi devo fare tutto da solo